Buonasera, buonasera a tutti voi dal TG1. Non si ferma la strage sul lavoro. Cinque vittime in un solo giorno, due operai in un deposito di azoto liquido nel Milanese, altri due caduti da un'impalcatura a Padova e Torino, un camionista schiacciato dal suo tiro in provincia di Palermo. L'allarme dell'Inail, l'80% delle aziende controllate sono irregolari, avanti su sanzioni e ispezioni, dice il ministro Orlando. L'inviato è Giacinto Pinto e poi c'è Lorenzo Santorelli. Gli hanno trovati privi di sensi, uno accanto all'altro, sulla scaletta metallica del deposito che stavano riempendo di azoto, qui all'ospedale Humanitas di Pieve Emanuele. Forse proprio le inalazioni del gas li hanno uccisi. Due operai specializzati, Emanuele Zanin, bresciano, 46 anni, e Singh Jackdip, di 42, indiano, anche lui, residente in provincia di Brescia. Per chi era lì vicino in quel momento, probabilmente c'è stata una perdita durante il rifornimento. Sono scesi per tappare quella perdita lì e secondo me sono morti così. Sulla morte di Emanuele Singa adesso indaga la procura di Milano. Omicidio colposo contro ignoti, l'ipotesi di reato, carabinieri e vigili del fuoco. Stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. I due operai erano dipendenti di una ditta di trasporti del Bresciano, che lavora per conto di una multinazionale impegnata proprio nella produzione di gas. Il primo pensiero mio e della nostra azienda va alle due persone che sono morte e alle loro famiglie e quindi non ci resta che dare la massima disponibilità, come abbiamo dato di tutti i nostri tecnici, per aiutare gli inquirenti a capire che cosa è successo. Indossavano casco e guanti i due operai morti, ma non sono state ancora trovate. Le maschere per l'ossigeno obbligatorie per controllare l'eventuale perdita di azoto dal carico. Anche altri tre lavoratori questa sera non sono tornati a casa. A Nichelino, nel Torinese, il titolare di un'officina meccanica è morto scivolando da una scala. Leonardo Perna, 72 anni, ha perso la vita dopo aver sbattuto violentemente la testa. Una dinamica molto simile a quella avvenuta solo qualche ora dopo in questa azienda di Loreggia, in provincia di Padova. Valeriano Bottero stava ritinteggiando il suo capannone quando è caduto da un'impalcatura. aveva 52 anni e non è sopravvissuto. La stessa età di Giuseppe Costantino, l'autotrasportatore che a Capaci in Sicilia è stato travolto dal suo camion. Il mezzo, probabilmente, era senza freno a mano. Cinque morti all'indomani dell'incontro tra il governo e i sindacati, proprio sulla sicurezza sul lavoro. È stato deciso di lavorare sul fronte delle sanzioni, del potenziamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. È stato deciso di responsabilizzare le regioni per il potenziamento delle ASDRE. Nei primi sette mesi dell'anno, 677 le vittime sul lavoro, tre al giorno. Quasi 313.000 le denunce di infortuni. Per i sindacati, una strage senza fine. L'Istituto ha controllato 7.800 aziende. L'80% è risultato non in regola, non coperte da assicurazione e soprattutto con anche lavoratori in nero. Dobbiamo lavorare sulla cultura di tutti. I controlli vengono effettuati da vari enti a seconda delle specificità. Forze dell'ordine, ASL, INAIL, IMSS. Questi ultimi, dal 2015, vengono coordinati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Una regia unica che però non è ancora riuscita ad invertire la tendenza. 3.000 gli ispettori a fronte di 4 milioni e mezzo di aziende. 3.000 gli ispettori a fronte di 4 milioni e mezzo di aziende. 3.000 gli ispettori a fronte di 5 milioni e mezzo di aziende. 5.000 gli ispettori a fronte di 5 milioni e mezzo di aziende. 5.000 gli ispettori a fronte di 5 milioni e mezzo di aziende. 6.000 gli ispettori a fronte di 5 milioni e mezzo di aziende.